Banchine del Tevere chiuse, cautela per chi ha la guida, indicazioni alla cittadinanza di evitare di percorrere sottopassi e viali alberati. Questi i primi provvedimenti presi per l'allerta meteo nella capitale. Osservata speciale la zona di Monte Mario, con alcune strade e parcheggi interdetti. Dalla mattinata di oggi, per le successive 12-18 ore, si prevedono in tutta la regione precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio temporale. Roma Capitale, per monitorare la situazione e in considerazione delle situazioni di criticità che si potrebbero manifestare sul territorio, ha quindi convocato per questo pomeriggio nella sede del Dipartimento della Protezione Civile di Porta Metronia il COC Centro Operativo Comunale. I tecnici saranno riuniti fino a cessata allerta o al superamento dell'evento atteso. Sono state anche convocate le unità di crisi locale presso tutti i municipi, precisano dal Comune. In un'ordinanza firmata ieri dal Sindaco Gualtieri, da Campidoglio, arrivano anche specifiche misure di salvaguardia per l'area della riserva di Monte Mario, unitamente a raccomandazioni di autoprotezione.